Oh no, che cos'è quella? E' tra me qui! Benvenuti su Anita Stories! Oggi vivremo una fantastica giornata assieme Sarà come fare una bellissima vacanza tutti assieme Perché passeremo 24 ore in giardino E guardate il video fino alla fine perché stanotte guarderemo le stelle assieme Sarà come fare un campeggio tutti assieme Per prima cosa dobbiamo mettere la tenda nel giardino Comando lasciate un bel mi piace se volete altre challenge 24 ore Se questo video raggiunge i 30.000 mi piace faremo un'altra challenge 24 ore Scrivete voi nei commenti che altra challenge volete che facciamo E ora siete pronti a iniziare questo campeggio con noi Prendete i pop corn, mettetevi comodi e iniziamo subito la challenge Mattiamo la tenda! Ok la tenda è pronta Entriamo per la prima volta nella tenda E vediamo come dobbiamo ancora arredarla e portare un po' di cose dentro Eccoci qua! Che bello! E' bella spaziosa, molto confortevole Mi sento ben riparata al sicuro Dove è Berlino? Che strano che non è ancora arrivato a distruggere la tenda Quindi ci sono delle finestre Devo andare ad aprirla da fuori così c'è C'è un po' più di aria fresca E' già super rilassante Ecco qua Vitale ha aperto la finestra Si sta super bene Sembra quasi di essere in vacanza Ora iniziamo a portare un po' di cose dentro la tenda Così diventa ancora più carina e confortevole E poi pranziamo Che c'è qua? Ma che c'è questa cosa? Ma Gianna Ma si entra senza bussare? Ma insomma Allora, che sta da fare qua? Berlino sta osservando tutto Ma è felicissimo Berlino sei contento? Mi metto contento Che cosa potrei portare nella nostra tenda Per il nostro campeggio? Magari prendi un po' di pupazzi Così faranno un po' da cuscino Questa è una lanterna Anche se la useremo stanotte questa Una bellissima lanterna per stanotte Ho sistemato due pupazzi E la lanterna No, 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 no Merlino No, no, no Sapete che Merlino adora mangiare i pupazzi No Merlino Non si mangiano questi Ma è andato tutto sporco Cos'hai fatto? Avrà scavato nuovamente Mi sembra che manchi ancora qualcosa È un po' troppo vuota questa tenda Cosa potrei aggiungere? Comunque Merlino ha il museo tutto sporco di terra Perché lui sotterra gli ossi La prima volta che l'ha visto Vitale ha detto Non ci posso credere Pensavo che succedesse solo nei cartoni animati Invece sì Merlino sotterra gli ossi Perché ha paura che qualcuno glieli rubi Ma chi potrebbe rubarglieli? Sicuramente non io, Vitale Ecco qua Stai comodo, amore Amore mio Che bello che sei Bene Tre pupazzetti sui semati Ah no, volevo dire due Merlino è un pupazzone Però non so cos'altro portare qua dentro Ma adesso andiamo a preparare il pranzo al sacco Così possiamo pranzare assieme Cioè non so se voi avete già pranzato Ma possiamo pranzare assieme Ti piace qui Merlino? Sei comodo? Ma quanto sei sporco sul naso Bello, amore mio Merlino si sta rilassando nella tenda nuova Assieme ai suoi due nuovi amici Stitch e Minou Ma Merlino sei già stanco? Vuoi già dormire? È un po' presto per dormire Sai Ora dobbiamo pranzare Merlino sta già dormendo È stanchissimo Ecco Vitale che arriva Con il pranzo al sacco E tu che cosa ti sei portato da mangiare? Ma veramente io pensavo che tu preparassi anche per me E io ho preparato tutto per me Come? Quelli due sono per te? E arriva anche Merlino per mangiare i pupazzi No Merlino Sto scherzando Uno è per te Tieni Ah meno male Per Merlino? Per Merlino Lui Merlino mangia stasera Tanto poi Merlino mi sa che si vuole mangiare tutto il mio pranzo Sicuramente mangerà qualcosa Guarda Vediamo un po' cosa abbiamo per franzo Cosa ha preparato Vitale? C'è Merlino che non vede l'ora Merlino proverà a rubarci tutto il cibo Chissà da chi ha preso Uno Due Non c'è niente Eh? Devi aprire Pasta Sono farfalle Le farfalle Tu hai in tema campeggio Perché ci sono le farfalle Ah è vero Hai visto? Questa è la pasta crudaiola È una delle mie paste preferite Allora in pratica ci sono Pomodorini Pomodori Eh Da Merlino Hai detto pomodoro Hai detto pasta Aiuta Come si fa a mangiare in campeggio con un cane? Se voi siete mai stati in campeggio con un cane Scrivetecelo nei commenti Stavo dicendo Questa pasta Buon appetito È Ovviamente La mangio già Con i pomodorini Le olive taggiosche Io adoro le olive Ne mangio tipo barattoli interi A me non piacciono Poi qua ha messo il formaggio vegetale Buon appetito Buon appetito Buon appetito Buon appetito Gli spaghetti agli oli E peperoncino Potrei mangiarli ogni giorno Li adoro troppo Sono troppo buoni E la tua? Io adoro tutta la pasta Però il formato che mi piace di più Sono le mezze maniche Come le magliette A me gli spaghetti Gli spaghetti Gli spaghetti li adoro tantissimo Infatti noi due li ti chiamo sempre Perché io voglio sempre gli spaghetti E quindi mangiamo sempre spaghetti Punto Finito Passiamo ora al secondo Vediamo cosa è una carota in Italia Wow Che cosa abbiamo Abbiamo le carote Da inzuppare qui con questa salsa e lo yogurt E poi le fragole e banane Merlino sta tornando a mangiarti tutto E poi qua dentro In questo cosetto qui C'è la sorpresa Il dessert Dessert la sorpresa Merlino Merlino sta cercando di rubare tutto Ma ovviamente E' arrivato Godzilla Vai a posto tuo Dai Seduto qui Vieni Allora Merendo abbiamo la macedonia Le carote Lo yogurt E qua Non so cosa ha nascosto E quello è una sorpresa Buon appetito Da dove cominciamo? Bravo Bravo Ti ho messo alle mie spalle Così alla prima distrazione È pronto a rubarmi tutto Ci dispiace un sacco Per le persone che Hanno passato questa quarantena Stanno passando questa quarantena In un appartamento Non hanno magari un giardino Un piccolo balcone Sappiamo cosa significa Perché abbiamo sempre vissuto In un appartamento Prima Anzi abbiamo anche vissuto In un appartamento Che era talmente piccolo Che era solo una stanza Solo una stanza con un bagno Speriamo che con questo video Vi sentiate un po' con noi Nel nostro giardino A fare questa mini vacanza Campeggio Con Vitale che mangia tutto Che buono Qual è il vostro frutto preferito? Il mio La mela Le fragole E le ciliegie Qual è il vostro frutto preferito? E vabbè Sono tutti così buoni Non riesco a scegliere Il tuo? Io le mele Il frutto preferito di Merlino Senza dubbio La mela Infatti siamo uguali Io e lui Se ci seguite su Instagram Se non ci seguite Andate a seguirci Il nome è Anita Stories Potrete vedere nelle stories Che Merlino Impazzisce per le mele È vero Infatti il suo soprannome Melino Oppure Merlindo Perché impazzisce per le mele Non so perché Vediamo un po' Cosa ha messo qua dentro Vitale Secondo voi cosa c'è qua dentro? Dai Però Merlino Non lo può mangiare Cioccolato Oh no Tu non lo puoi mangiare No Merlino Se mangi questo muori Dove stai andando? Cioccolato fondente L'adoro Che in Merlino Una carottina per te La faccio tutta Sgrone Sgranocchino Ha sbavato tutto Guardate come mangia Mi piace molto la carotta Guarda Merlino Le carote Un po' le carote Dove te le stai portando? Devo rascondere qua Buone Buone Sgronocchio tutto Ma perché fai cadere le cose dalla bocca Quando fai Merlino Perché mastica con la bocca aperta Ok ora che abbiamo pranzato Giochiamo a qualcosa Giochiamo a nascondino O un 2-3 stella Un 2-3 stella Sì Ho letto da poco Che in realtà un 2-3 stella Non è stella Ma è un 2-3 stai là Sono rimasta scioccata Quando l'ho letto Voi che versione conoscete Un 2-3 stella O un 2-3 stai là Scrivetemelo nei commenti Iniziamo a giocare E inizio a contare 1-2-3 stella Ti ho visto muoverti Anche a te Merlino Dovete tornare indietro Tutte e due 1-2-3 stella Bravi Devo dire che siete stati bravi 1-2-3 stella Merlino Merlino Aspetta ora di dietro E va bene dai Glielo perdono questa volta 1-2-3 stella Merlino Vabbè dai Merlino glielo perdono Dai 1-2-3 stella L'edizione è vicinissimo 1-2-3 stella 1-2-3 stella Hai perso Perché ci sei mosso Torno indietro 1-2-3 stella Merlino è stato bravissimo Ti ha superato 1-2-3 stella Come hai fatto così vicino 1-2-3 stella Nooo Adesso tocca all'oro Ah io ho vinto 1-2-3 stella Ti ho visto muoverti No ma come l'hai vista Non è vero Dai vai vai Merlino pure tu indietro Forza Merlino Merlino ha deciso di arrendersi 1-2-3 stella Ti ho vista povera 1-2-3 stella Merlino un po' State fermi lì tutti e due Che fai tu 1-2-3 stella Brava 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 pure lui 1-2-3 stella Ti ho vista Non è vero 1-2-3 stella Stella Come è comoda con la posizione Che stai facendo La lanciatrice del disco 1-2-3 stella No 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 Non sei arrivato a te Basta Vincitore di questa challenge è Merlino Gli diamo un premietto Bravo Merlino Ciao ragazzi Siamo arrivati alla notte Come potete vedere da qua dietro è buio Abbiamo la cena qua Merlino sta cercando di rubarcela ovviamente Allora Cosa abbiamo in questa cenetta Descrivi un po' Allora abbiamo queste qua che sono un po' scure che non si vedono Sono delle melanzane Grigliate Poi abbiamo le patatine fritte E poi delle fette di pane Cenetta perfetta per il nostro campeggio in giardino Buon appetito C'è Merlino che ci sta guardando con aria Ci sta guardando in cagnesco Che buone le melanzane Merlinetto si è sdraiato qui con noi Sono buonissime queste melanzane Io adoro le melanzane Ed ecco qua Merlino che fa la guardia all'entrata della tenda Il nostro bravissimo cagnolino Controlla che sia tutto ok Ho acceso la lanterna Guardate che bella E poi lì abbiamo la lampada luna Ve la ricordate? In questa lanterna ci sono le stelline qua sopra È super carina Vado a fare una passeggiatina con Merlino Andiamo a cercare dei frutti rari Oppure del cebo Ma hai appena finito di mangiare Tanto noi siamo sempre affamati Quindi Va bene andate pure Io faccio un riposino Visto che è tardi Dormi bene Ciao Ciao Ok ragazzi siamo rimasti solo nei due Ma ora io sono stanca Quindi faccio un riposino Spegniamo le luci Ups Spegniamo questa lampada C'è ancora troppa luce C'è ancora troppa luce Uffa Spengo anche questa Come fai a tenere la candela in mano? Perché in realtà è una candela a batterie Non so se riuscite a vederlo Vedete? Per quello che non mi brucio Preferisco questo così non rischio di bruciare tutto Spenta anche questa Uffa c'è ancora troppa luce Mi è venuta un'idea Chiudo questa porta qua Chiudo la porta principale Così ci sarà Meno luce Ok sono riuscita a chiudere la porta principale Adesso posso fare un riposino Come cuscino uscirò Uffa Userò uno dei due Pupazzi Vediamo se riesco a stare comoda qua Io ora dormo un pochettino ok? Ci vediamo dopo Avete sentito? Vitale? Oh no Vitale si è allontanato Sono rimasta proprio da sola Ma mi sembra di sentire dei rumori strani Forse è solo il fatto che sono rimasta da sola E mi sto un po' condizionando Un po' di paura Ma mi sembra di sentire dei rumori strani Li sentite anche voi? Avete sentito anche quello? Che cos'era? Sembrava tipo un urlo Io mi metto qua Ok Io mi metto qua Mi metto qua Mi nascondo qua Mi metto qua Mi metto qua Cos'è? Oh no Che sta facendo? Sta alzendo un'antenza Aiuto Aiuto Alla giù c'è Merlino Vieni Sbrigati che c'è qualcuno là fuori Merlino forse mi farà la guardia adesso Sono molto contenta che è tornato Però Vitale ancora non è tornato Ok Merlino Tu devi proteggermi Ok? Hai sentito anche tu quei rumori strani Devi proteggermi Ok Merlino? Oh no Che cos'è quella? Merlino Aiutami tu ok? C'è qualcosa di strano Proteggimi tu Aiuto Che cos'è? Sto cercando di entrare Sto cercando di entrare Ok Chiudiamo 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 Siamo riuscita a chiudere Merlino Spero che non si ce l'ha detto adesso Merlino si sta arrabbiando Mi sta proteggendo Entrano qui Questa quella è una maschera Provo a togliere la maschera Era tutto uno scherzo Ti ho fatto uno scherzo Non ci posso credere Lo sai che mi sono spaventata tantissimo Dovevo pensarci in effetti Se Vitale era sparito Ne avrebbe combinato una delle sue Come dovrei vendicarmi con Vitale? Scrivete nei commenti Come dovrei vendicarmi Se questo video raggiunge i 30.000 mi piace Farò io una bella vendetta a Vitale Ma consigliatemi voi che cosa? Quindi cosa stai dicendo? Niente Un bel niente Ora devo riposarmi Visto che i miei Anzi ora non riesco più a dormire Bene Questa è stata la nostra avventura 24 ore in giardino In tenda Io sono ancora arrabbiata con Vitale Per avermi fatto questo scherzo Super spaventoso Adesso devo dormire Hai sentito? Si Ma quindi quello che Questo rumore Che ho sentito prima Non ero io Questo verso Non eri tu? No Ora vi lasciamo qua Quattro caselline Su cui cliccare Per vedere i nostri altri video Mentre noi Chiudiamo subito la porta E ci proteggiamo Con Marlino Che caso è quella che preferite E buona visione Ciao Ciao